Ciao ragazzi, allora questo sarà un video brevissimo per darvi un rapido aggiornamento su fotografare con il flash, ovvero il mio libro. È un aggiornamento che avrei preferito non darvi, ma purtroppo oggi l'editore, l'Apogeo, mi ha comunicato che purtroppo ci sono stati dei ritardi per il libro. Pertanto non potrà uscire il 18 febbraio come preventivato, ma ci sarà un po' di ritardo. Non c'è ancora una data precisa, mi verrà comunicata e ovviamente appena mi verrà comunicata ve lo farò sapere. Per questa ragione al momento non lo trovate ad esempio su Amazon e inoltre tutti quelli che l'hanno già ordinato vedremo di capire poi insieme se dovete riordinarlo oppure se vale l'ordine effettuato in precedenza. Detto ciò comunque io ci tengo tantissimo a ringraziarvi perché nel momento in cui ho pubblicato il video in cui annunciavo l'uscita del libro sono stato sommerso da commenti positivi, da persone che mi hanno detto l'ordino subito, anche se ancora senza sapere i contenuti. E questo mi ha fatto un piacere veramente immenso e ci tengo a ringraziarvi tantissimo perché mi avete dimostrato veramente tantissimo, tantissimo affetto e mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. Ci aggiorneremo quindi, spero veramente a giorni, per la nuova data di uscita. Appena ci sarà vi farò ovviamente sapere tutto, vi rimanderò i link per poterlo ordinare e capiremo se dovete riordinarlo oppure no. E detto questo, magari questo weekend riesco finalmente a riregistrare un video di quelli a cui siete abituati e quindi ne approfitto per augurare buona serata a tutti e ci vediamo molto presto, ok? Ciao!